Ma qui abbiamo un caso complicato. Parlo dello Sharingan ipnotico. Genera illusioni molto più potenti dello Sharingan comune. Gli basta un secondo per farci vivere il peggiore degli incopi. Ricordi bene l'esperienza nel regno della mia luna insanguinata. A parte le energie, lo Sharingan ipnotico richiede anche un consumo notevole di chakra. Hai ben chiara la situazione. La tua vista. Quanto si è indebolita. Kakashi. Tu non puoi avere...